incontrai un angelo che mi offrì un desiderio in cambio dell'anima ma scusa non erano i diavoli a fare offerte simili domandai c'è scarsità di clienti su da noi mi spiegò l'angelo facciamo quest'offerta promozionale per incentivare gli arrivi allora sembrava alan sorrenti con toga e ali lasciami solo dissi tutto qui il desiderio si va bene firmai col sangue e l'angelo svanì ero solo desiderio esaudito